Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi iniziamo il capitolo diciottesimo di Luca. Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, ne aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle ma poi disse tra sé anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno dato che questa vedova mi dà tanto fastidio le farò giustizia perché non venga continuamente ad importunarmi. Il signore soggiunse ascoltate ciò che dice il giudice disonesto ed io non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui. Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Ecco l'ultima domanda è la domanda centrale, è la domanda della vita, è la domanda che mai dobbiamo sopire? Il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Troverà ancora la mia di fede? Per essere provocatori nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità c'è ancora fede? O magari possiamo essere aggrappati a un mondo religioso, alle nostre buone abitudini, a qualcosa che ci dà anche delle cose positive, delle sensazioni positive? Insomma siamo cresciuti magari in questo contesto ma troverà la fede ancora accesa? Ecco vorremmo e speriamo di poter dire di sì nonostante i nostri limiti, nonostante le nostre fragilità, nonostante le nostre cadute, ma è a noi che aspetta di mantenere accesa la fede. Lo facciamo così ad esempio, provando a leggere e a vivere e ad ascoltare e a meditare la parola ogni giorno. La teniamo accesa laddove scopriamo che il più grande sacramento e quindi il più grande segno della presenza di Dio è anzitutto l'altro, il prossimo, colui che ti sta vicino, colui che ha bisogno, colui a cui tu puoi dare un contributo per creare giustizia, perché quel giudice rappresenta, mica Dio ovviamente, rappresenta esattamente l'umanità, l'umanità che non mette nelle situazioni di giustizia, che non serve la giustizia. Dio non è così, come poi faccia giustizia a Dio, amici, questo noi non lo sappiamo, ecco, per cui sappiamo che ci sono situazioni, ecco, di ingiustizia, ce ne sono a migliaia, a milioni nel mondo e alcune sono veramente tragiche, ecco. Beh, nella nostra vita, in questa nostra vita Dio non può intervenire se non attraverso di noi, ecco, attraverso le nostre mani, lo ripeto in tante occasioni, ecco. Gesù dice non mollare, tieni la schiena diritta, continua a pregare, a pregare sempre, ad insistere, non insistere per convertire Dio alle nostre idee, ma lo sappiamo, insistere per convertire il nostro cuore alla volontà di Dio, per convertire il nostro cuore e le nostre azioni al Vangelo. Bene, allora buona giornata, creiamola dove possiamo giustizia. Le cose belle della giornata di ieri? Bene, cito soprattutto una, perché ieri sera abbiamo fatto un primo incontro con i giovani della Diocesi in vista della giornata mondiale della gioventù a Lisbona e questo è un primo passo, un primo passo per entusiasmarsi, un primo passo per farne altri, no? Perché avvicinarsi alla GMG con calma, con entusiasmo, ma anche con un percorso serio, è una cosa molto importante perché la GMG non sia così un evento e basta, ecco. E quindi abbiamo iniziato, adesso aspetterà a noi poi nelle comunità insomma continuare questo percorso. Ale, buona giornata a tutti voi!